16 febbraio 1926 Muore esule a Parigi Piero Gobetti Nato a Torino il 19 giugno 1901 è ancora giovane studente promotore della rivista culturale Energie Nuove esponente della sinistra liberale progressista e stimatore di Antonio Gramsci si avvicina al proletariato turinese divenendo attivo antifascista Nel 1922 promuove la nascita della rivista Rivoluzione Liberale che diventa presto il principale centro di opposizione al fascismo di area liberale Mi si riferisce che Noto Gobetti sia stato recentemente Parigi e che oggi sia Sicilia, stop! Prego informarmi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore governo e fascismo Nel settembre del 1925 viene aggredito e duramente percosso da squadristi fascisti e per questo si vede costretto a emigrare in Francia